Problematiche della giustizia, carenza di organico e sovraccarico dei lavori del Tribunale. Sono questi i temi affrontati in un incontro organizzato dall'Associazione Cittadinanza Attiva con i vertici dell'ANM e con il Presidente del Tribunale Alemi, il quale si è espresso sul difficoltoso rapporto tra cittadino comune e complessità della giustizia. Io ritengo che l'ufficio giudiziario, il Palazzo di Cristallo, debba essere trasparente, non dobbiamo nascondere niente. Se le cose vanno non bene e sicuramente noi, lo dicevo prima, non rendiamo ancora una risposta adeguata alla richiesta di giustizia che viene dai cittadini, dobbiamo prenderne atto e vedere tutti insieme come fare per eliminare queste carenze, per ridurle. Tra gli obiettivi dell'incontro c'è sicuramente lo sviluppo di metodi di miglioramento del sistema giudiziario napoletano. Dunque noi abbiamo attivato, ci occupiamo come cittadinanza attiva, si occupa di giustizia da 20 anni e soprattutto sul fronte della tutela legale attraverso l'impegno della rete di avvocati, anche di cittadini che si attivano per aiutare gli altri che chiedono aiuto proprio a venire fuori da situazioni complicate. L'avvocato Giuseppe Brandi di Cittadinanza Attiva invece ribatte sull'istituzione di un front office polifunzionale. Noi abbiamo utilizzato due strumenti, sia un questionario per il Presidente e il dirigente amministrativo ed un questionario, anzi una scheda di valutazione diretta anche delle strutture del Palazzo di Giustizia. Quindi abbiamo proprio fisicamente passeggiato all'interno del Palazzo, abbiamo visto che ci sono certamente tante e abbiamo riportato dati circa le tante criticità che già alcune sono risapute, si è dibattuto tanto su queste problematiche. E sempre chiaramente nell'ottica del cittadino, facendo attenzione al fatto che il cittadino non ha delle cognizioni specifiche quando entra nel Tribunale, così come ce l'hanno gli operatori della giustizia, ce l'hanno gli avvocati. Gli avvocati sanno dove dirigersi, dove sono dislocati gli uffici, sanno dove andare per partecipare a un'udienza, sanno a quale fila accodarsi per chiedere ad esempio la copia di un provvedimento. Il cittadino no. E quindi con questa iniziativa, come diceva la coordinatrice nazionale Mimma Modica Alberti, abbiamo dato voce al cittadino che sia, diciamo, come protagonista della tutela dei suoi diritti in un ruolo concorrente e non subalterno agli operatori della giustizia. A questo ci teniamo a precisare. Ci si augura che l'Associazione Cittadinanza Attiva, in collaborazione con le istituzioni, possa riformare l'efficienza del sistema giudiziario napoletano. Grazie a tutti.